Voce e Strumento Interiore La preparazione è sia moderna che lirica Quindi io magari facevo lezione nell'aula di fianco a me C'erano insegnanti di canto lirico Che sentivo strillare giù quegli zigomi, giù quegli zigomi Ecco ora io un po' di cultura ce l'ho Ma sicuramente Maria Celina Angelini ne ha più di me Perché lei è cantante lirica, io no Però da quello che ho capito sono molto poco presenti gli zigomi nel lirico Se non quasi assenti Quindi forse l'unico momento in cui il moderno e il lirico si incontrano E quando noi falsettiamo Come dicevo prima il falsetto quindi non è soltanto qualcosa che si esplica in registro acuto Perché la maggior parte della gente pensa insomma Che sia una nota alta da fare E invece non lo è Il falsetto può anche essere Può anche essere il registro di petto, note basse Può essere in tessitura e registro acuto L'importante, la cosa veramente importante È che lo zigomo venga abbassato Quindi lo zigomo deve essere basso Così la laringe scende Le corde vocali si abbassano e si allontanano E permettono il passaggio dell'aria Quindi c'è una minora aduzione Quindi ricordatevi che è esattamente l'opposto Se voi volete la voce pulita E sentite come già cambia la vostra voce Se io quando comincio a cantare faccio La gente mi potrebbe scambiare per una cantante lirica Ma se io faccio È chiaro che io sono una cantante di canto moderno Quindi è questa forse tra tutte la principale differenza C'è molto lavoro laringeo nel canto moderno Ci sono molti zigomi nel canto moderno Mentre nel canto lirico non è assolutamente così Io faccio sempre queste vocine per farvi capire il concetto Però provate perché alla fine Non sempre si ha la possibilità magari a casa di cantare Perché vivete in un condominio E quindi date fastidio Però parlare è già un modo di lavorare Quindi è metà canto la voce parlata Quindi se volete allenarvi a casa Fate esercizi di canto moderno con la voce parlata E poi fate esercizi di canto lirico con la voce parlata Acusticamente sentirete già anche solo parlando La fondamentale differenza tra le due tecniche enorme Grazie a tutti